Buongiorno a tutti, ieri è uscito un video sul mio canale con un errore, un video in collaborazione con Alessandro e Rossella, EPP Investigazioni. Voglio sottolineare che la loro professionalità non è messa in discussione, basta verificare sulla loro pagina Facebook, sul loro canale. Per ciò che riguarda l'errore, avete fatto bene a segnalarmelo, ma la responsabilità di tutti i video che escono sul mio canale e anche degli errori è soltanto mia, perché sono solo io che edito e monto i video e sinceramente senza troppi giri di parole di questo errore non mi sono assolutamente accorta. Non sono una portatrice di verità, non sono infallibile, di certo non è una giustificazione e quindi sottolineo che fate bene a correggermi, ma dovete correggere soltanto me e non le persone che vengono ospiti nel mio canale, che si sono sempre dimostrate molto disponibili. E questo vale anche per Alessandro e Rossella. Voglio soltanto aggiungere una cosa, che chi fa sbaglia e chi non fa, ovviamente, non sbaglia mai. Se potete accettare che io sbaglio e probabilmente continuerò a farlo, allora continuate a seguirmi e continuate a sostenermi come avete sempre fatto. Vi voglio bene.